SEMO TIFOSI DELLA ROMA, SEMO DEL COMMANDO ULTRA E così si apre aprile, ma intanto vedete ieri sera che cazzo è successo La pizza scrocchiarella Come fa quello? Apriami tu! Addio! Guarda qua, esce il sale Adesso inizia a aprile con una mega super passeggiata e c'è stanno pure sti due luoschi figure qua Sti luoschi figure qua tra poco se ne aggiunge un quarto Ho un aprile invernale praticamente Guardate Stefano cosa ha comprato E fai vedere pure l'altro che tanto... Non vi volevo dare i soldi amici però Vabbè, ciao Ciao Si è chiusa la scuola BORTALLO Salsaburga Allora ragazzo sera si fanno le BORGATE Allora ragazzo sera si fanno le BORGATE La Pasqua di Resurrezzio Resurrezzio Io amo colazzo Quali più accattività non io Grazie Mi cado Mi cado addosso Mica può resistere Salute Salute Salsaburga 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 Che tempo di merda eh Sesto numero Ditemi voi Qua che si parla di siccità Qua sembrerebbe stato Twin Peaks E avremo entrambi ciò che vogliamo D'accordo Si va a caccia di Power Ranger Stasera Arrosti shiny Assaggiano pure gli arrosticini di mortadella Finalmente Sembra essere tornato un po' di bel tempo Chissà Ho parlato troppo presto Vaffanculo Guarda il diluvio universale Oh Avete mai fatto il contrario Ossia Una foto All'autovelox Ciao Stasera Stiamo vibrando Un frillo C'è Vibrando Sto finendo Ok ok Adesso Il Un Is Andiamo al legno, la casa degli specchi, la casa degli specchi, eccoci qua, ci siamo! Vai! Nagatoro! Ehm, qua, eccoci, esatto, il labirinto di specchi, lo so, lo so, sono carini, siamo liberati! La bella carbonaretta del 25 aprile, giusto per feffeggiare liberazione, o San Marco Evangelista, come dicono i fascisti. Passa dentro una maschera a bagno, pochino! È giusto, ho tirato in giro! Solo la luna vicinanza ci farà conoscere! Giornata americana, finiamo con un americano, vi saluti a... Telesco! No, no, solo americano, americano, vi diamo appuntamento al prossimo video! Ciao! Ciao! Grazie!